Sì Ok Sì 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 Adesso un minuto dai 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 Sì 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 3 64 65 76 87 e 48 78 79 80 82 Qualcani bravo dai 84 vai dai dai 85 vai 86 bravo 27 10 secondi dai dai adesso adesso dai 89 90 ancora dai dai 90 ok bravo mi prendi i pesi bilanciera da 20 10 kg 20 kg 10 kg 20 kg e il daddy